L'Augusta sta accadendo uno dei peggiori disastri ambientali della storia d'Europa. Il caso Agusta è un unicum in tutta Europa. Abbiamo una concentrazione industriale che non è presente in nessuna parte d'Europa e ci sono 190 punti di emissione che non è facile controllare. Per cui qui non si capisce mai da dove viene l'inquinamento né se riesce a colpire chi è stato responsabile di questi fatti. Ovviamente questo disastro ambientale si repercuote non solo su quello che è il territorio fisico ma anche su quello che è il mondo degli esseri viventi. Mancano poche minuti all'inizio della manifestazione. Se qualcuno deve ancora morirsi di polare o di maglietta credo che ce ne sia ancora qualcuno disponibile. Farini con certina, cervello, fasoli, albo, polmoni, fassoli, liberante, pancreas, favaasuli, dietro, non specificato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.